amiche ed amici degli equivoci lettori buon pomeriggio in pieno foliage autunnale ed in attesa di halloween vi proponiamo la lettura di un racconto di ray bradbury dal titolo gioco d'ottobre la lettura si articolerà in cinque giorni a partire da oggi e sempre alla stessa ora sui nostri soliti profili social ray bradbury è uno scrittore americano nato nel 1920 e famoso sia come scrittore che come sceneggiatore di lui ricordiamo fahrenheit 451 cronache marziane tra le sceneggiature spicca in assoluto quella di moby dick la balena bianca film diretto da john houston il racconto che vi proponiamo ai toni un po notturni un po onirici le suggestioni che evoca sono quelle tipiche della notte delle streghe noi speriamo che sia di vostro gradimento e per questo vi auguriamo un buon ascolto di ray bradbury gioco d'ottobre egli rimise la pistola nel cassetto del comò e chiuse il cassetto no non così luis così non avrebbe sofferto sarebbe morta e tutto sarebbe finito lei non avrebbe sofferto era molto importante che la cosa avesse soprattutto una durata una durata attraverso l'immaginazione come prolungare la sofferenza come innanzitutto provocarla ecco l'uomo in piedi davanti allo specchio della camera da letto infilò con cura i gemelli nei polsini sostò poi abbastanza a lungo da udire i bambini correre avanti e indietro nella strada sottostante fuori dalla calda casa due piani come tanti topolini grigi erano quei bambini come altrettante foglie dal loro chiasso capivi che giorno fosse e dalle loro grida sapevi che sera fosse quella una sera molto avanti nell'anno ottobre l'ultimo giorno d'ottobre con maschere d'osso bianco zucche intagliate e odore di candele gocciolanti no da qualche tempo le cose non andavano bene ottobre non era d'aiuto semmai peggiorava la situazione egli si aggiustò la cravatta nera farfalla se fosse stata primavera pensò annuendo lentamente con calma senza emozione alla propria immagine nello specchio allora avrebbe potuto esserci qualche probabilità ma quella sera tutto il mondo crollava fiammeggiando in rovina non c'era nessun verde di primavera nessuna freschezza nessuna promessa la nel vestibolo una leggera corsa questa è merion si disse la mia piccina con tutti i suoi otto anni sereni mai una parola soltanto i suoi luminosi occhi grigi e la sua boccuccia perplessa non aveva fatto altro che entrare ed uscire per tutta la sera provando maschere diverse chiedendogli quale fosse la più terrificante la più orribile e alla fine entrambi si erano decisi per la maschera da teschio era semplicemente spaventosa avrebbe fatto morire di paura la gente ancora egli colse la lunga occhiata di ponderata decisione che si era lanciato nello specchio ottobre non gli era mai piaciuto fin da quando si era sdraiato la prima volta sulle foglie d'autunno davanti alla casa della nonna tanto tempo prima e aveva udito il vento e veduto gli alberi spogli lo aveva fatto piangere senza ragione e ogni anno un po' di quella tristezza ritornava in lui una malinconia che sempre se ne andava con la primavera ma quella sera era diverso sembrava che l'autunno fosse venuto per durare un milione di anni e non ci sarebbe stata primavera egli aveva pianto silenziosamente per tutto il tardo pomeriggio non si vedeva, non c'era la più piccola traccia sul suo volto, era tutto nascosto chissà dove ma non sarebbe cessato un forte odore dolciastro di canditi riempiva la casa in fermento luisa aveva avvolto le mele in una nuova buccia di zucchero caramellato c'erano grandi coppe di ponce appena preparato collane di mele a ogni porta zucche svuotate e intagliate che spiavano con occhi triangolari dal freddo di ogni finestra al centro del soggiorno una tinozza d'acqua attendeva con accanto un sacchetto di mele che iniziassero i giochi tradizionali tutto quanto occorreva era il catalizzatore l'irruzione dei bambini perché le mele cominciassero a ballonzolare le collane di mele a oscillare come pendoli sulle porte gremite i dolciumi a sparire i corridoi a echeggiare di spavento o di gioia era la stessa cosa ora la casa taceva intenta ai preparativi e anche a qualche cosa di più finisce qui la prima puntata di gioco d'ottobre di Ray Bradbury per la seconda puntata vi aspettiamo domani sera alla stessa ora sui nostri soliti profili social grazie dell'ascolto e arrivederci grazie grazie